Allora, ho perso con Lorenzo, con una persona che ha giocato per la prima volta FIFA 12 Ha giocato per la prima volta FIFA 12 e mi ha battuto, ma proprio di brutto Bella ragazzi, qui è Abelman, benvenuti al mio canale, siamo su FIFA 12 FIFA 12, il gioco più di abilità, un gioco di veramente, c'è una concorrenza incredibile Giochiamo al Mestalla Stadium, uno degli stadi più belli a me, veramente mi piace un sacco, FIFA 12 Niente, giochiamo Spagna-Portogallo, questo è l'ultimo video di questo 2016 E poi niente, poi questo è l'ultimo, questo è proprio l'ultimo video su questo canale Abelman Ita Visto che adesso ci abbiamo anche il secondario, per quelli che non lo sapete ancora Ma devo fare proprio un video, altrimenti qua c'è Oh, è buona Attenzione, gol della merda, il tiro, il 3, selva, 1-0, selva, selva, selva ha segnato Ha segnato via, ha segnato via, ha segnato via, non ha segnato Silva L'assist di Silva e il gol di via Un grande Spagna-Vantaggio, subito così Il game of the esperto, col tiro semi No, attenzione, grandissimo Niente da fare Contropiede, non riesce la palla per via Via, possiamo regolare Via, via, stai nella regola Via, via, la finta Attenzione al tiro Palo Il palo Attenzione al tiro No, dai, però Questo era clamoroso Clamorosa, palla, gol per via Uh, eh va, eccola Heller Postiga, ti pareva, eh Ti pareva che il Portogallo fa un gol così, eh Un gol, botta di culo, va Pala in mezzo Puyol Puyol, non so che cazzo ha fatto Vabbè Va lui Cazzorla Cazzorla Punta C'è che non è contro uno Cazzorla, prova il tiro Cade in terra Non c'è niente Eh, ti pareva Silva Cosa cazzo cerco sul secondo palo No, dai, doveva tirare qua, però Uh Mamma mia Lui Patrizio Cosa ha preso Lui Patrizio Ma cerchiamo Pichè, dai Cerchiamo da lui Eh, ma dove cazzo va Pichè Uh 1-1 il primo tempo Uff Mamma mia Oddio Mamma mia Per fare un'autoretta Eclamorosa Ancora Puyol Mamma mia Puyol Proprio peggiore in campo oggi Cazzorla Può tirare Il tiro Mamma mia Che cannonata di Cazzorla Calcio d'angolo Sì, sì, c'è la Spagna Ciavi Sia, battuta Per Torres Che prova in scivolata Non va Iniesta Ciavi Ciavi Prova il tiro a giro La pala resta lì È liscio? O liscio? Uh, via Può andare via Via La mette in mezzo Calcio d'angolo Palla in mezzo Silva E il tiro E il tiro E il tiro Passaggio a buon fine Ancora Ciccari a Spagna Fino all'ultimo Iniesta Il tiro Iniesta Sera maniata E finisce qua 1-1 Suplementari Fabregas Fabregas Gioriente 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 Fernando Gioriente 2-1 Gran giocata di Fabregas E poi il gioco Dei ragazzi Per gli orienti Al novantattesimo Uh Uh Fabregas Rete Fabregas Fabregas 3-1 La Giorgia a Spagna È buona no a tutti No vabbè Fabregas Senzato ragazzi È fatta la differenza Adesso ha fatto l'assist Adesso ha fatto un gran gol Magari Dove dare un po' più Di occasione A Fabregas 3-1 Portogallo Di sotto Mamma mia Puyol Chiude Chiede Puyol Gioriente Gioriente Il giro Gioriente Sta per fare la doppietta Personale Il primo volo in carriera Sta per fare Sto appena doppietta Con la madre Spagnola Spagnola Finisce qua ragazzi Finisce qua La Spagna vince 3-1 Spagna vince 3-1 In questa In questo giorno Di Capodanno FIFA 12 Per me Adesso Inizia a giocare È fantastico Altro che FIA 17 Anche se FIA 17 È veramente realistico Ma FIFA 12 FIFA 12 è un passo in più FIFA 12 è stato Proprio bello Finiamo così Con quest'anno Ragazzi È stato È stato Un anno Bello È stato Un anno Pieno di emozioni È stato Un anno Ricco È stato Un anno Tante belle cose Anche brutte Ma Più belle Ecco E quindi Finiamo così Con FIFA 12 Quest'anno 3-1 Tre pere Abbiamo andato Al Portogallo Ecco Adesso Posso dirlo Dopo che Ho perso Praticamente Tutto Tutto FIFA 12 E compagni Qua Ho caricato Anche un video Sul canale Sloveno Per cui Ancora sapete Abbiamo anche Il canale Sloveno Per quelli Che vogliono Proprio Iscriversi Anche lì La fine Ogni anno Io credo Che Ogni anno Che passa È Un anno Speciale Ogni anno Ha Una storia Perciò 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 I anni È bello Ricordarsi Per me Ogni anno Che è passato Dal 2010 In poi È stato Sempre Con dei ricordi Eccetera Eccetera E quindi Certe cose Non si può Dimenticare Niente 2017 Nove Videogiochi Il calcio Per il Pescara Per come Non sapete Lì Abbiamo Anche Una maglia Del Pescara Niente Speriamo Che si sali Ma se non si sali Fa niente Alla fine Alla fine Io sarò Sempre orgoglioso Di questa squadra Ma anche Vada Perché alla fine Io pretendo solamente Di giocare a calcio E poi Poi magari possiamo Che perdere Immediatamente E niente Le novità Le novità Il blu ieti La nuova webcam Logitech C920 O La nuova sedia O Veramente Ho fatto un setup Della madonna No Ma un setup Di qualità Ecco Quindi Diciamo Quest'anno Mi sono Permesso Abbastanza Ho fatto Abbastanza Sacrificio Anche Da questo punto Di vista Della tecnologia Ecco Mi sono permesso Un pochino Di più Soprattutto Per youtube Perché ho letto Un microfono Proprio Sai Quando Adesso La lecchina Che puoi fare Come Come La sabi gamer Che C'è ragazzi Sabi gamer Che è in diretta Lecca il microfono Non lo so Va Vabbè E poi C'abbiamo Anche questo Ho preso Scontato 10 euro Quindi quando Il pescara L'angol Per il pescara Assegnato Assegnato Niente Quindi ho comprato Anche questo Niente Questo costava Il meno Prezioso E' stato 15 euro L'ho comprato Bluietti Nel negozio Hansiker Hansiker Non lo so Come si sente Ragazzi Ma Niente Questo E' Giusto così A cazzo L'abbiamo comprato Oppure Adesso mettiamo Una sirena Questo è il minimo Questo è ancora Il volume Proprio a zero Cioè se metto Proprio Forte Non lo so Meglio di no Meglio E' Statemi bene Tutti 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 Proprio Statemi bene Tutti E' Noi ci rivediamo Ovviamente Subito Dopo l'anno nuovo Dopo capodanno Ci rivediamo Con un nuovo video E' Gli argomenti Non lo so ancora Ma I video Ci saranno Sia sul canale Italiano Che sloveno Quindi abbiamo Nessere due canali Due canali Quindi iscrivetevi Su due canali E' Niente ragazzi Io ho finito qua Buon anno a tutti E' Non ci vediamo Mi dispiace Che ci sequestraranno Ma Nel prossimo anno 2017 Contanto Medica Bella Ciao 가 Ciao 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 Grazie a tutti.